Oggi parliamo di Marc Bloch, un grandissimo, forse uno dei più grandi storici del Novecento francese e anche membro della Resistenza francese in cui morì. Vediamo le tappe salienti della sua vita e della sua esperienza. 2 agosto 1914. Marc Bloch viene mobilitato con il grado di sergente di fanteria per combattere nella Prima Guerra Mondiale. 23 agosto 1939. Rindossata la divisa, Bloch viene inviato in Alsazia. Sarà poi addetto agli approvvigionamenti in Piccardia. 16 giugno 1944. Marc Bloch viene assassinato a colpi di mitragliatrice dai nazisti. Era stato arrestato tre mesi prima per la sua attività nella Resistenza. Di Marc Bloch parliamo adesso col professor Alessandro Barbero. L'ho definito rivoluzionario, è stato eccessivo secondo lei, professore? No. E fra l'altro anche in politica, pur essendo un grande borghese, avendo sposato la figlia di un petroliere, era considerato un rosso dai borghesi francesi dell'epoca. No, ma è stato un rivoluzionario perché lui e pochissimi amici, Lucien Fevre, hanno veramente trasformato il modo in cui si fa storia. Andando alla scuola dell'Alienal, ma in cosa consisteva questa rivoluzione? Consisteva nello scoprire che lo storico non si intanto non si interessa solo a ricostruire i fatti, ma anche a capire cosa prova la gente, come pensava la gente del passato, cosa aveva nella testa. E poi anche per quanto riguarda i fatti, lo storico non si interessa soltanto dei grandi avvenimenti che coinvolgono le masse, ma si interessa anche delle piccole cose, per cui capire cosa significava per una contadina del Medioevo affrontare il parto, supponiamo, è altrettanto interessante, se non di più, di sapere cosa provava Carlo Magno quando andava in guerra contro i sassoni. E sapere della contadina del parto aiutava anche gli storici precedenti a completare il quadro? Ma il punto è che gli storici per tanto tempo si sono detti, noi dobbiamo raccontare le grandi imprese, i grandi personaggi, no? Ecco, e a un certo punto la cosa si era isterilita, cioè la storia rischiava di diventare una cosa su cui i fatti erano accertati. E adesso di cos'altro ci occupiamo? È Bloch che scopre che possiamo occuparci di quando le nonne hanno inventato la marmellata, che prima non c'era e adesso invece è una cosa importante. E allora vediamolo questo, Mark Bloch, storico in trincea, guidati da Matteo Marroni. In una delle sue tante frasi rimaste famose, Mark Bloch paragona il bravo storico all'orco della fiaba, che sa che là dove fiuta carne umana troverà la sua preda. Un modo suggestivo di dire che l'oggetto di studio della storia sono gli uomini e il trasformarsi della loro vita nel tempo. Ogni traccia di questa vita, tutto ciò che l'uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce, tutto ciò che sfiora, può e deve fornire informazioni su di lui. È l'esito di quella rivoluzione del pensiero storico che Bloch comincia ai primi del Novecento, quando ancora studia l'école normale superiore di Parigi. Sono anni in cui l'influenza del positivismo ottocentesco è ancora molto forte. Gli storici di questo orientamento si limitano a un rigoroso studio filologico dei documenti. Emil Durkheim sta invece fondando la sociologia come disciplina accademica, con l'ambizione di istituire una scienza dell'evoluzione umana che soppianti del tutto la storia. E questo influenzerà profondamente Bloch nel suo tentativo di fare della storia una disciplina scientifica e di allargarne i confini. Nel 1909 Bloch va a seguire dei corsi di storia economica in Germania. È tornato da tempo e sta svolgendo le sue ricerche sulla servitù nel Medioevo, insegnando storie e geografia al liceo di Amiens, quando nell'estate del 1914 scoppia la prima guerra mondiale. Nell'agosto del 1914 Bloch si arruola volontario e prende servizio con il grado di sergente di fanteria. Partecipa a tutte le grandi battaglie del fronte occidentale, vive per anni in trincea, gomito a gomito con i contadini e gli operai di Francia e scopre di avere un'inaspettata attitudine alla vita militare. Alla fine del conflitto si è guadagnato il grado di capitano, quattro citazioni all'ordine del giorno della sua divisione, la croce di guerra e l'ammissione alla legion d'onore. L'esperienza vissuta tra il 1914 e il 1918 si rivela istruttiva anche dal punto di vista del mestiere di storico. Le condizioni di vita alterate, create dalla guerra, gli consentono osservazioni sorprendenti sui meccanismi del ricordo, sull'attendibilità delle testimonianze, sulla formazione della mentalità e delle rappresentazioni collettive. Nel suo saggio del 1921, riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra, a proposito dell'ampia circolazione di storie assolutamente infondate e considerate vere da milioni di soldati al fronte, Bloch scrive L'errore si propaga, si amplifica, vive a una sola condizione, trovare nella società in cui si diffonde un terreno di cultura favorevole. Solo grandi stati d'animo collettivi hanno il potere di trasformare in leggenda una percezione alterata, si crede facilmente a ciò che si ha bisogno di credere. Una leggenda che, ispirato atti clamorosi e soprattutto azioni crudeli, è sul punto di diventare indistruttibile. La storia, dunque, deve necessariamente indagare anche gli aspetti psicologici e irrazionali della vita umana. Alla base del suo primo grande capolavoro del 1924, i re Taumaturghi, studio sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re, particolarmente in Francia e in Inghilterra, c'è proprio quest'interesse per le false credenze, per le rappresentazioni collettive e per il contributo che altre discipline, come l'antropologia e la psicologia, possono dare alla conoscenza del passato. Professore, era ebreo Mark Bloch, come Freud, contava essere ebreo? Quando lui è nato e quando era giovane, in apparenza non contava in Francia. La sua era una famiglia di origine ebraica, completamente atea, separata dalle tradizioni degli antenati. Poi però, quando lui è molto giovane, in Francia scoppia l'affare Dreyfus e cioè si scopre che c'è un antisemitismo nell'esercito, nella classe dirigente francese e tuttavia poi l'affare Dreyfus viene superato e Bloch è un patriota francese, fa la prima guerra mondiale con entusiasmo e convinzione. Quindi in realtà lui è arrivato a un bel momento della sua vita convinto che essere ebreo, nonostante l'affare Dreyfus, in un paese moderno come la Francia non avesse nessun significato. Emanuele Rucchetti, mi ha colpito quel saggio a riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra. Quello è molto interessante. Perché? Le false notizie, come abbiamo visto dal video, affascinano Bloch, nel senso appunto come possono affascinare uno studioso. Lui è impegnato nello scongiurare la circolazione di false notizie e alcune tracce di questo saggio del 1921 le ritroviamo già in un discorso memorabile appassionato del luglio del 1914. All'epoca Bloch è un ventottenne professore di storia di un liceo di Amiens e rivolge proprio un discorso ad alunni e colleghi in cui parla di cosa significhi indagare il passato, cosa significhi fare storia allontanandosi dal concetto di mera cronologia. Quindi secondo Bloch gli storici sono incaricati di condurre una vasta inchiesta sul passato secondo la critica storica, quindi l'arte di discernere vero, falso, verosimile. Quest'arte ha delle regole, prima fra tutte appunto la necessità di citare le fonti e saperle vagliare. E queste regole che insomma Bloch poi diciamo enuncia sotto forma discorsiva appunto nel luglio del 1914, queste regole, questi principi del metodo storico ci insegnano a pesare le testimonianze, a fiutare il falso, a coltivare il confronto rivelandosi utili non solo per lo studio, per l'indagine del passato ma anche per allenare il senso critico nella società come cittadini. Lo storico è un orco, diceva Mark Bloch, ma che voleva dire? Nel senso che qualsiasi preda umana per lui va bene? Eh sì, eh sì, beh appunto l'orco delle fiabe, in certe fiabe si aggira dicendo sento odore di carne umana, no? Ecco. E tutto ciò che è carne umana appunto allo storico interessa. Quello è il punto, è quello che dicevamo prima, no? Non soltanto i grandi uomini, tutti gli esseri umani. Però è ingeneroso nei confronti degli storici che l'hanno preceduto, perché non è che gli altri storici facessero riprendere sempre le parole di Manuel Lucchetti delle cronologie o storie di battaglie. Io penso agli storici della Grecia antica, agli storici della Roma antica, gli stessi storici medievali qualcosa lo davano. Io credo che Bloch sia in polemica, Bloch e gli altri che insieme a lui appunto hanno fatto la rivoluzione delle Annale, sono in polemica in realtà, appunto, non con tutta la tradizione della storia umana, ma con la storia ottocentesca, che però è la prima storia scientifica, ecco. Noi prima abbiamo degli uomini che sono chiaramente dei geni, erodoto, tacito, i quali quindi fanno delle cose fuori da qualunque schema, da qualunque metodo obbligato. Invece nell'ottocento nasce una storia scientifica che comincia a mettere dei paletti, devi analizzare le fonti, devi dire dove hai trovato quell'informazione. Questa storia scientifica però si inaridisce un po' nell'andar dietro appunto soltanto a fatti importanti e soprattutto ignorando la sfera, diciamo, di ciò che non è un fatto perché non lo puoi afferrare con certezza, quello che passa, ripeto, nella testa delle persone. Ci aiuta anche a capire la storia dei fatti in modo diverso, la storia dei fatti per esempio sul Medioevo, porta a un capovolgimento del modo di guardare agli stessi fatti? Sì, perché ci aiuta a capire che gli esseri umani, da un lato siamo sempre la stessa bestia noi esseri umani, abbiamo certe pulsioni animali che sono sempre quelle in tutte le epoche, però poi al tempo stesso, a seconda delle epoche, da bambini ci ficcano in testa idee diverse, valori diversi, no? E' quel che pensavano gli illuministi, no? La gente del passato erano tutti cretini. Perché quei deficienti del Medioevo si mettono in testa di fare le crociate? Che idiozia! Ecco, e questo è sbagliato. Quando incontri uomini che si comportano in modo diverso da te, devi cercare di capire le loro ragioni. Quello è un grande insegnamento anche nei confronti di chi è diverso da noi nel presente, non solo verso quelli che sono vissuti in quel luogo lontano che era il passato. E' interessante che parta da dei falsi, i falsi della prima guerra mondiale. Perché era ossessionato dei falsi? Beh lui, la prima guerra mondiale è questa esperienza straordinaria in cui lui che è un borghese e un intellettuale si trova per anni in trincea insieme ai soldati, insieme ai soldati contadini, operai, ecco, gente antropologicamente diversa da lui. Tra l'altro c'è una cosa bellissima, divago un attimo, lui racconta un episodio particolarmente sanguinoso e dice io personalmente ho visto che resisto abbastanza bene agli spettacoli cruenti, gli operai e i contadini che noi crediamo che siano dei duri sono molto più sensibili e impressionabili. Dopodiché lui in mezzo agli operai e ai contadini in divisa scopre questa cosa, cioè che idee assurde che si fanno, come si propalano rapidamente delle notizie chiaramente insensate e a quel punto gli scatta di dire ma allora forse anche quelle che noi credevamo fossero le superstizioni del passato. Esattamente questo, entriamo nel secondo capitolo dove vediamo, da quello che ha appena detto il professor Barbero, come si entra nella nuova storia, sempre guidati da Matteo Marroni. Terminata la guerra, Bloch ottiene il suo primo incarico di lettore di storia medievale all'Università di Strasburgo. La città è appena tornata alla Francia e l'Università in fase di rifondazione e in pieno fermento. Qui Bloch incontra Lucien Fevre e il sociologo Maurice Alvax. Strasburgo diventa il centro del rinnovamento degli studi storici e della collaborazione tra le scienze sociali. Per iniziativa di Bloch e Fevre nel 1929 nasce la rivista Annale di Stoire Economique et Sociale. È l'origine di quella che può forse considerarsi la più importante scuola storiografica del Novecento. Mentre continua a riflettere sugli infiniti aspetti della vita umana che possono diventare oggetto di studio, nella sua attività di ricerca, Bloch sceglie di partire dai fatti profondi della storia, i più sicuri, quelli di carattere sociale ed economico che non dipendono dalla soggettività delle testimonianze. Adotta una prospettiva di indagine comparativa, convinto che, proprio nelle differenze con cui uno stesso fenomeno si manifesta nello spazio e nel tempo, sia spesso possibile rintracciare delle spiegazioni. Respinge le barriere disciplinari in favore di un approccio globale ai problemi. Integra le fonti documentali con quelle della tradizione orale, dell'arte, dell'archeologia. Sviluppa un metodo critico di analisi e interpretazione dei dati che esplicita sempre le lacune, le contraddizioni e l'eventuale carattere congetturale di ipotesi e conclusioni. I caratteri originali della storia rurale francese esce nel 1931. Lo sforzo è quello di descrivere i processi che sono stati alla base della nascita della nazione francese, ossia i modi in cui la terra è stata popolata e sfruttata. Bloch ha appreso tutto il possibile dai metodi degli storici tedeschi ed inglesi e ha studiato le tecniche agricole, la morfologia dei campi e degli abitati, le carte, i documenti giuridici, le etimologie dei luoghi. Formula il concetto di regime agrario che è la combinazione di condizioni di produzione, tecniche agricole e principi di organizzazione sociale. Individua l'esistenza di diversi tipi di regime agrario in Francia da cui sono derivate realtà sociali e politiche differenti. All'inizio degli anni 30 è pronto per un nuovo tipo di esperimento storico, vuole cioè smontare e analizzare tutte le complesse relazioni che compongono una struttura sociale. Da questa ricerca nascono le sue lezioni sulla signoria rurale del 1936 e la società feudale pubblicata in due volumi tra il 1939 e il 1940. La signoria rurale ha antecedenti molto antichi, subisce una lunga evoluzione fino a diventare in età feudale quel tipo di struttura caratteristica che sovrappone potere di governo e attività economica nell'inistricabile intreccio che si viene a creare tra diritto alla rendita del suolo e diritto al comando. Il sistema feudale vero e proprio nasce più tardi dalla dissoluzione dello Stato carolingio sotto la pressione delle invasioni normanne e musulmane. In una situazione di grande rallentamento degli scambi e delle relazioni, di scarsa circolazione monetaria e di forte indebolimento dello Stato, crescono quei vincoli di dipendenza personale tra gli uomini che rappresentano, secondo Bloch, il tratto saliente del regime feudale. Al centro del suo tentativo di ricostruire un'intera civiltà a partire dalle sue condizioni materiali e economiche, non vi sono più né re, né papi, né imperatori. Solo gruppi di uomini senza nome e il lento trasformarsi dei loro legami familiari, delle loro organizzazioni sociali e giuridiche, dei loro modi di sentire, pensare e lavorare. Ma allora professore, se le cose stanno, come ha detto il nostro filmato, il nostro filmato ha detto bene, quantomeno questo metodo storiografico comporta un arricchimento. E perché allora la scuola delle Annale ha avuto così tanti nemici, sempre, dalla fine degli anni venti anche adesso. Ma all'inizio naturalmente era una cosa un po' scioccante appunto, è proprio la cosa che dicevamo all'inizio, a lei veniva quasi da dire ma in fondo certe cose, era proprio molto nuova. Poi c'è la fase del dopoguerra in cui la cultura parigina domina il mondo e allora lì magari si attirano qualche antipatia proprio perché c'è stato un momento in cui sembrava che, come dire, la presunzione degli intellettuali francesi, Bloch non c'era già più. Ma allora perché per esempio la storiografia marxista polemizzò con le Annale? La storiografia marxista, pensi che tempi, gli storici pensavano ancora di poter trovare una chiave garantita per spiegare i comportamenti umani, per capire dove va la storia e a quel punto quando pensi di avere la chiave quelli che ne propongono una diversa non li accetti. Mario Sanseverino, ci può dire quali furono le innovazioni metodologiche di Mark Bloch Certo, perché in particolare in una delle opere prevalenti, principali e più innovative di Mark Bloch, cioè i caratteri originali della storia rurale francese, viene applicato un nuovo metodo all'indagine storiografica. In francese viene definito OREBOU, mentre in italiano viene tradotto come metodo regressivo. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento della direzione dell'indagine storica partendo dal presente, quindi in senso opposto rispetto a quello cronologico, e quindi partendo da un'immagine più recente e meglio conosciuta dell'oggetto per scelto, andando via via all'indietro verso ciò che è più remoto, per meglio coglierne quella mobilità che in Mark Bloch si rivela come l'oggetto privilegiato della storia come scienza del cambiamento. Per Bloch è quindi possibile serotonare il passato a ritroso, come se si trattasse di una pellicola cinematografica, ed è appunto dal cinema che almeno secondo una suggestione di Carlo Ginzburg si sarebbe fatto ispirare Bloch in questa sua innovazione metodologica, mostrando così ai futuri storici che spesso basta un espediente narrativo, un cambio di prospettiva in questo caso, per generare nuove vie originali appunto e fruttuose per la ricerca storica. All'inizio io ho citato la psicanalisi, lui giustamente cita sulla scia di Carlo Ginzburg il cinema. Può darsi che vivere nel mondo dove c'erano anche il cinema e la psicanalisi abbiano suggestionato Mark Bloch? Con la psicanalisi certamente siamo sulla stessa lunghezza d'onda, certo, e sul cinema sì, perché in realtà il cinema negli anni 20 e 30 esisteva già da un po' di tempo, aveva un enorme successo popolare, ma, la cosa la stupirà, gli intellettuali lo guardavano con un certo disprezzo. E Bloch, invece, c'è una lettera di Bloch a Fevre in cui dice, ma questa cosa del cinema, dice, non si metta a ridere, ma secondo me è interessantissimo il cinema. Poi lui pensava proprio a un oggetto di riflessione, cioè hanno inventato una nuova tecnologia, però poi è diventata un'industria. I poveri non andavano a teatro, ma invece vanno al cinema. Ecco, Bloch aveva questa capacità di cogliere anche nel presente i segnali del cambiamento e le cose su cui bisognava riflettere per capire dove stava andando il mondo. Ha lasciato aperto, lei professore, all'inizio un discorso del Bloch politico, l'uomo che progressivamente si impegna. Negli anni 30 è già un uomo impegnato? Negli anni 30 è un uomo impegnato perché in Francia era impossibile restare fuori dalla politica in quel momento. La Francia negli anni 30 è un posto in realtà angoscioso dove c'è la dittatura in Italia, arriva la dittatura in Germania e la Francia si sente un paese invecchiato, indebolito, ha una classe dirigente spaventatissima che alla fine poi comincerà a pensare forse meglio Hitler piuttosto che non i comunisti. E al tempo stesso ci sono grandi manifestazioni popolari, c'è il fronte popolare di sinistra che a un certo punto va al governo e Bloch, che pure dice uno dei suoi figli, dice mio padre secondo me sì, secondo me era un uomo di sinistra, però era anche un uomo d'ordine, però Bloch dice queste masse di poveri, di operai, di lavoratori che sono in piazza a chiedere un futuro migliore, c'è qualcosa di importantissimo in questo. Non possiamo non vederlo, non possiamo non esserne colpiti e quindi lui firma anche manifesti per esempio a favore delle grandi manifestazioni operaie, pur essendo appunto lui ripeto un grande borghese. E non diventa mai comunista però. Comunista no, no no. Però c'è un filo conduttore, le masse, come si muovono le masse nel medioevo, nel cinema e nella Francia degli anni 30, cioè le moltitudini, le masse, più persone magari anonime e trovare il senso di questo loro anonimato, forse è questo il percorso intellettuale di tutta la vita di Mark Bloch. Sì e anche questa è una cosa che entra in risonanza, cioè con Freud abbiamo diciamo l'attenzione alla psicologia dell'individuo, però è anche una cosa molto novecentesca scoprire che la massa e la folla hanno i loro sentimenti, i loro modi di ragionare. Sì però in Bloch c'è certamente questa dimensione anche proprio democratica della cosa, cioè la gente comune è protagonista della vita e noi storici dobbiamo occuparci anche di loro. In fondo nessuno è come lui, ma adesso lo vediamo perché nel terzo capitolo affronteremo proprio il tema della storia e il presente, sempre guidati da Matteo Marroni. Nel corso degli anni 20 e 30 Bloch tenta per due volte di ottenere un trasferimento al Collège de France di Parigi, senza successo. È il segnale delle difficoltà che il semplice fatto di essere ebreo può creare nell'ambiente accademico francese. Nel 1936 gli viene offerta alla Sorbona la cattedra di storia economica, la sola esistente in Francia. Con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale è richiamato alle armi e nonostante i suoi 53 anni, sceglie di non farsi esonerare da quello che ritiene un dovere imprescindibile. Si deve occupare degli approvvigionamenti presso lo Stato Maggiore dell'Armata del Nord in Piccardia. Dopo la capitolazione del Belgio e la disfatta della Francia, sfugge alla cattura dei tedeschi, abbandona la divisa e va a rifugiarsi nella sua casa di campagna a Fougère. Qui, tra il luglio e il settembre del 1940, scrive La strana disfatta. Pur essendo ebreo, viene riammesso agli insegnamenti per meriti eccezionali, prima a Clermont e poi a Montpellier, nella Francia di Vichy. Tra mille difficoltà e interruzioni comincia anche la stesura di quel libro sul metodo al quale pensa da alcuni anni. Nel 1942 inizia la sua attività nella Resistenza. Nel marzo del 1944 viene arrestato a Lione. Dopo tre mesi di prigionia e tortura nel carcere di Montliuc, il 16 giugno del 1944, Mark Bloch è trasportato in un campo con altri 29 prigionieri e assassinato dai nazisti a colpi di mitragliatrice. La strana disfatta e l'apologia della storia, pubblicati dopo la guerra, rappresentano il testamento spirituale di Mark Bloch, ciò su cui si fonda il vero e proprio culto della sua figura di eroe civile, oltre che di storico. Testimonianza diretta dei fatti che hanno condotto all'umiliante resa della Francia nel giro di poche settimane, la strana disfatta racconta il fallimento intellettuale e morale dell'intera nazione. Disfatta degli alti comandi militari, prima di tutto, così aggrappati alle esperienze e strategie della guerra precedente da non poter né pensare né preparare quella nuova. Disfatta dello Stato, che con la sua propaganda non è riuscito neppure a spiegare le ragioni del conflitto. Disfatta della sinistra internazionalista e pacifista, incapace di distinguere tra aggressore e aggredito. Disfatta dei sindacati, incuranti del pericolo incombente sulla classe lavoratrice, che hanno semplicemente continuato a rivendicare salari più alti e orari più brevi. Disfatta di una borghesia gretta e miope, che non ha saputo accogliere nessuna delle rivendicazioni dei ceti popolari, né comprendere l'importanza decisiva per la democrazia di un'istruzione pubblica adeguata e di organi di informazione disinteressati. Disfatta degli intellettuali come lui, infine, che hanno preferito la pavida fiete dei propri studi all'impegno nella vita pubblica. Eppure, alla domanda che gli pone suo figlio, papà, a cosa serve la storia? Bloch risponde con un'apologia nella quale dimostra non solo la legittimità intellettuale e scientifica della storia, ma anche la sua utilità sociale, il suo valore ideale. Da sempre centrale nella civiltà occidentale, ma ancora giovanissima come lavoro ragionato di analisi, la storia è ciò che rende comprensibile il presente, che permette di smascherare errori e menzogne, che aiuta a prevenire i tentativi di risuscitare il passato o di imitarlo. Nella primavera del 1943, però, le riflessioni sulla storia si interrompono. L'apologia della storia resta incompiuta. Il mestiere di storico deve essere sembrato a Bloch del tutto impraticabile in quel momento e in quelle circostanze. L'uomo interessato alla verità, forse, non poteva fare altro che prendere le armi e combattere i nazisti. Una strana disfata. Quello è un libro molto importante nella storia di Mark Bloch perché è diverso, ovviamente, da tutti quelli che aveva scritto fino a quel momento e perché testimonia quanto sia stata drammatica per lui la caduta della Francia nel maggio del 1940 di fronte ai nazisti. Sì, infatti è un libro importantissimo. Lui, subito dopo la sconfitta del 1940, a un certo punto dice alla moglie, alla fine vinceremo noi e dopo la guerra bisognerà regolare molti conti. E lui non l'ha vista alla fine della guerra ma in quel libro ha regolato i conti. Cioè, quello è un libro straordinario perché da un lato è il libro di uno storico che sta analizzando un avvenimento. Certo, non è una crociata del XII secolo ma è una cosa che è appena successa sotto i suoi occhi. Però è lo storico che lo sta analizzando. Però al tempo stesso c'è il furore del cittadino che ha visto il suo paese andare allo sfacelo e che ha la sensazione di sapere di chi sono le colpe. Tutti ne abbiamo, anch'io, anche noi storici, anche noi intellettuali, però altri ne hanno di più gravi. Ecco, con quel libro lui davvero ha cominciato a regolare i conti come sperava che altri avrebbero poi fatto dopo la fine della guerra. Lui poteva andarsene via dalla Francia in quel momento, gli Stati Uniti, chiunque lo avrebbe accolto a braccia aperte ma decide di rimanere per la moglie, per il figlio e solo per la famiglia o perché vuole completare con la sua esperienza personale, le chiedo di fare lo psicanalista, quello che aveva scritto nella strana disfatta. Allora, a vedere le cose in superficie è sicuramente per la famiglia perché lui aveva una numerosa famiglia, aveva sei figli, alcuni maggiorenni, alcuni minorenni, la moglie, la cognata, la mamma, aveva ancora la vecchia mamma e fanno i visti per l'America e alcuni li possono ottenere subito, altri per esempio per la vecchia mamma per qualche motivo il visto ritarda e lui gli dicono parti tu intanto con alcuni dei figli e lui dice no o partiamo tutti e alla fine non parte nessuno, farà espatriare alcuni dei figli verso la Spagna ma lui rimane. Poi certo, è molto bello, visto che di blocco abbiamo fatto anche una leggenda, aggiungere diciamo una pennellata a questa leggenda pensando che in realtà da quel suo paese lui non volesse andarsene, che sentisse che poteva ancora fare qualcosa di importante lì. Riesce certamente a tornare all'insegnamento nonostante che sia ebreo, ma come fa? Perché il regime di Vichy, come tutti i regimi antisemiti, aveva introdotto alcune discriminazioni, parola da intendere in senso positivo in quel caso, e nel suo caso lui ha meriti di guerra, decorazioni e poi è raccomandato da un altro grande storico, il Carcopinot, che era stato allievo di suo padre, anche il papà di Bloch era storico, storico dell'antichità, e Carcopinot in quel momento è potentissimo perché è uno storico di estrema destra, fedele al regime di Vichy, è ministro dell'istruzione o qualcosa di simile, sì, e lui raccomanda Bloch perché... E perché a un certo punto invece decide di passare proprio alla resistenza, insomma alla parte attiva della politica? E quando i tedeschi occupano Vichy, perché lì ci sono diverse fasi, all'inizio Vichy si può illudere di essere un paese indipendente, poi invece... I tedeschi non l'avrebbero risparmiato, viene catturato, messo in capo e ucciso, Sì, intanto arriva un ruolo molto importante nella resistenza, quando lui viene catturato dalla Gestapo, i rapporti dell'ambasciata tedesca e gli stessi giornali tedeschi scrivono catturato il capo della resistenza nel sud della Francia, l'ebreo Bloch, dopodiché sì, viene detenuto, torturato e alla fine fucilato perché dopo lo sbarco in Normandia i tedeschi vedendo arrivare gli americani fucilano tutti i prigionieri che hanno lione. Sì, diciamolo per completezza che lui si era presentato anche militare, era andato a combattere con le truppe francesi nella seconda guerra mondiale ed è un'esperienza abbastanza strana, positivamente insolita, di questa doppia militanza, quella per l'esercito e poi quella nella resistenza. Poteva andarsene ancora nel 44? Forse non poteva andarsene ma nessuno lo obbligava ad andare a cercare la resistenza e a ruolarsi e assumere anzi compiti appunto sempre più importanti. Poteva star nascosto, tanti altri sono riusciti a star nascosti, lui invece è andato. Devo dire, sono straordinari i racconti dei partigiani che l'hanno visto arrivare, questo signore verso i 60 con gli occhialini, il bastone, la valigetta che dice io sono qua, se posso fare qualcosa. Dopodiché di con tutti abbiamo scoperto che era un grandissimo organizzatore, un uomo di capacità straordinaria. Non si diveria dal suo metodo storico, però qui si conclude uno splendido ritratto che non io ma il professor Barbero ha fatto di Mark Bloch. Professore, non è che questo la risparmia a darci tre libri. No, allora c'è una biografia di Mark Bloch, di Carol Fink, mi pare che in italiano si chiami Mark Bloch vita di un intellettuale, quindi per conoscere lui questo. Per conoscere la rivoluzione storiografica delle Annale partirei da Peter Burke che appunto ha fatto un grande saggio su questa scuola storiografica e poi però bisogna leggere, vi avete già letti tutti? Magari no, un libro di Bloch e in particolare La strana disfatta, perché lì c'è tutto lo storico ma c'è anche tutto l'uomo. Sono d'accordo con lei, ringrazio il professor Barbero per i libri di cui vi prego di prender nota, vi invito a prender nota, ringrazio i nostri giovani storici e mentre voi scrivete io mi preparo per le conclusioni. La strana disfatta, con gli scritti della clandestinità 1942-1944, Mark Bloch, rest geste 2014, Mark Bloch, biografia di un intellettuale, Carol Fink, la nuova Italia 1999, una rivoluzione storiografica, la scuola delle annal, 1929-1989, Peter Burke, la terza, 2019. Alessandro Barbero ci ha detto che il merito per cui Mark Bloch poté insegnare durante l'occupazione tedesca in Francia fu di Jérôme Carcopinot. Chi era Jérôme Carcopinot? Era un celeberrimo storico dell'antichità, soprattutto di Roma Antica, autore di una famosa biografia uscita negli anni 30 di Giulio Cesare, che fu nominato nella Francia di Vichy segretario di Stato dell'educazione nazionale e si era adoperato per la reintegrazione nell'insegnamento di Mark Bloch. Nonostante questo poi alla fine della guerra è stato incarcerato, processato, liberato, ma tenuto sotto osservazione per alcuni anni finché forse proprio per quel suo gesto nei confronti di Mark Bloch, come ha ricordato Barbero, lui era stato amico del padre. Nel 51 Carcopinot fu reintegrato e nel 1955 addirittura promosso all'Académie française. Nel 51 Carcopinot fu reintegrato di Mark Bloch.